se c'è una nobile coraggiosa e bellissima nella storia del rinascimento questa è caterina sforza è figlia del duca galeazzo maria e viene data in sposa soli dieci anni a girola moriario un uomo altezzoso pieno di sé forse troppo guardatelo in questo dipinto di melozzo da forlì è il penultimo a sinistra il bell'imbusto dalla tunica blu che si atteggia in modo persino provocatorio diversamente dagli altri personaggi che sono raffigurati lì intenti ad ossequiare suo zio papa assisto quarto sfoggia un'alterigia fuori luogo ed è più interessato a guardare fuori della tela che avvolgere lo sguardo al pontefice che pure lo renderà ricco e riario che lei ha sposato giovanissima quando era ancora bambina sarà uno degli artefici della congiura contro lorenzo il magnifico caterina non solo è a fianco del marito in quell'occasione anche se l'impresa non riesce ma è una vera e propria condottiera quando i suoi possedimenti vengono messi a rischio da firenze e napoli è bella e scaltra e si distingue per le azioni coraggiose e temerarie che le valgono soprannome di tigre della romagna vince sempre ovunque qualsiasi sia il nemico il campo di battaglia e spavalda ed è priva di paura ma fornita di un intuito straordinario e di un fegato per le imprese audaci che molti condottieri le invidiano in un'occasione viene tradita da una famiglia nobile di forlì che conquista la rocca di rivaldino con un manipolo di soldati riesce ad entrare nel castello i suoi figli ancora bambini sono tenuti in ostaggio dai rivoltosi che minacciano di ucciderli e lei dice loro fatelo pure se volete impiccateli pure davanti a me poi si solleva le gonne davanti al nemico e mostrando con la mano il pube gli dice qui ho quanto basta per farne altri ma papa borgia il suo nemico giurato insieme al figlio cesare hanno truppe meglio armate delle sue e la cingono d'assedio nella rocca di forlì per diversi giorni le artiglierie dei due eserciti si fronteggiano seminando morte e distruzione la stessa caterina oppone una strenua resistenza combattendo dentro le mura della cittadella a fianco dei suoi soldati come una tigre ma alla fine deve capitolare tenta persino di suicidarsi per non cadere in mano al nemico ma viene salvata in estremis ed imprigionata roma nelle carceri pontifice morirà nel 1509 a firenze nel tentativo di riconquistare i suoi territori pochi giorni dopo aver riacquistato la libertà ed aver confidato ad un frate se io potessi scrivere tutto quello che so farei stupire il mondo Grazie a tutti